Una preghiera silenziosa davanti al monumento in ricordo degli ebrai di Vilnius, l'invito a essere vigili contro ogni sentore di risorgente antisemitismo, poi una visita al monumento alle vittime dell'occupazione e delle lotte per la libertà, un ex quartiere generale del KGB per ricordare l'occupazione sovietica. E' stato denso di messaggi politici il secondo giorno di visita di Papa Francesco a Vilnius, un giorno durante il quale il Papa ha voluto ricordare anche tutti quelli che lottano per la libertà e la giustizia. Prima Papa Francesco ha anche visitato il ghetto che furaso dal suolo dai nazisti esattamente 75 anni fa, nella data di oggi. Dei 60.000 ebrai obbligati a viverci nel 1941, solo 2.000 sono sopravvissuti. Il Papa si è fermato qui in una preghiera silenziosa, forse un eco del silenzio piombato su questi luoghi mentre non c'era quasi più nessuno di vivo.